Siamo qui in piedi, facciamo un inchino, se la meritava tutta, bravo Aperto, bravo Pettiol. Gioco, partita incontro, 6-2, 7-5. Sta dimostrando Konakamaghi di meritarsi questa qualificazione, l'Euro 20-23. L'Italia è in finale nel torneo a squadre. Gentili ascoltatori. E' il campione del mondo. Vai, 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 vai. Bellissimo. Sulla luna. E c'è il burone. E c'è il burone. E c'è il burone.